Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Mi chiedo a un caverna, no! Una caverna di tante avventure Ho chiuso tante Mi lascio un zonco Ah, mi ha fatto un mare Sto sballando il mouse Mi trovo una caverna Mi chiede aiutai 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 Che cos'era? Era uno zombie che era messo su Ma io dovevo avere tutti i cuori Dove sei spucato? Da dove? Da dove luce di culo sei spucato? E tu? Da dove cavolo sei spucato? Non so se realmente sta avventando questo gioco Non so se realmente sta avventando questo gioco Ok, ecco Se il gioco buco è gioco Se lo tropezzo No no nanno muoio 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 noo Nanno muoio 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 noo due ma vabbè comunque cioè ma che cos'è sta cosa no come la data ma dove l'ho presa sta cosa non la so vabbè e attivano andiamo a prendere quelle qualcosa con la mucca guardate qua mucca della cacca ovviamente lagherà di più perché ho la shaders 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 però è bella la shaders è molto figa prendiamo subito io devo ho un bordello devo manovare tutto e devo metterlo nella cesta perché perché se no non facevo niente aspetta questo devo prendere questo anche poi questo lo leviamo questo cuore ce lo prendiamo ce lo ce la leviamo questo lo viso a che cosa serve a prima fosse facciamo facciamo set time set time set item no time item time vuol dire tempo sto facendo il tutorial nell'inglese proprio io voglio ma so qual è la cesta caccia si fa questo ma com'è ah ah mi manca il ferro ovviamente no l'ingotto d'oro mi manca e non posso fare niente non posso devo fare forse questo mi serve l'ingotto d'oro ma l'ingotto d'oro te lo infini tutto là perché io non ce l'ho infatti oggi andremo in caverna ovviamente ci faremo tutta l'armatura perchè io in caverna senza parmi non ce l'ho perchè non muoio totalmente qui qua c'è ci sono ancora così ne ripegniamo ne vengono ci prepariamo proprio tutti per me in caverna perchè sennò insomma ho tutti devo essere pronto super pronta per superare la caverna anche se la caverna non è la cosa peggiore la caverna proprio per noi sotto sotto ma va bene mancano nooo nooo sette non ne mancano sette no porca cuoci cuoci questo cuoci anche il pollo la porca la porca la porca con le tette andiamo subito in caverna andiamo subito però subito 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 muovi metti chissi la cosa aspetta che devo mettere ok proprio che ho messo in poi piazziamo il letto no qua non mi piace qui sto cosa fanno mia che cavolo vuol sistemiamoci l'inventario ma non ci si do qua perché non voglio morire così così questo ce lo mettiamo sempre qua perché ci si potrebbe sempre servire questo ce lo possiamo mettere qua questo ce lo togliamo questo ce lo togliamo questo ce lo togliamo ecco un po' di terra ok sono pronta sono pronta facciamo qui facciamo là e possiamo andare a dormire possiamo andare in caverna ok benissimo si vado in caverna ora non ho abbastanza cibo ma che se ne fate mi chiede questa cosa che mi occupa l'inventario ma va sistemiamo 100 qua va bene allora dove andiamo in caverna? io ne ho vista una bellissima però di là quindi andiamo oh 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 che bello andare a vedere le caverne andiamo mi costa luce ma 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 che che vabbè non facciamoci domande e andiamo all'avventura all'avventura no all'avventura nelle caverne alle caverne all'avventura ho già non voglio andare alle caverne nelle caverne sono pronto per la battaglia ma proprio grandissimo yeah andiamo e guardate quando sono felice guardate guardate qua sono così felice oh a costanza oh mio troppo felice sono di andare in caverna oh cosa è andata per la macchia io ne volevo trovare un altro però se mi affaccio questa davanti non ho una crafting dei ball ma secondo voi è normale lo prendiamo siamo pronti siamo pronti mica era un caverna una caverna di tante avventure ho preso tante mi lasciamo il zonbo mi lasciamo il zonbo mi lasciamo il zonbo mi lasciamo il zonbo ma sempre dobbiamo tenere sempre gli occhi aperti perché guarda il mano è cinturata ma se facciamo un passo falso e pom e ti uccide tipo un creeper e ti spacca anche le vetti scopri in faccia ti scopri in faccia e ti fa perdere tre anni tre anni di lavoro immaginate molto brutto sto sballando il mouse mi trovo una caverna mi dice aiuta 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 lenta ma come dice che cos'era era uno zonbo che era messo ma io dovevo avere tutti i cuori infatti a fai il vado non era di qua la caverna, mi sono perso, non trovo più le caverne, prima nel precedente abbiamo una pelle troate in meida, stove danger, yeah, alla ventura, yeah, alla ventura, yeah, alla ventura, no, sono così nell'acqua, aiuto, lag assurdo, proprio da morire, lag assurdo che è proprio da morire, ah, ah, si, 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 mi sembra che, si, qua c'è la, 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 sono pronto, facciamoci subito un sacco di, che non possiamo fare da mente, sto facendo un piccone tecnologico che non esisterà mai nella vita di Minecraft, ma, da mente lo sto facendo, no, ne ho fatti pochi, eh, solo per, perché, perché sì, che ne avevo pochissimi, ok per me ok mi dici quel zombie come ho fatto a salire tutto tutto dove si è spucato da dove da dove luce di culo si è spucato e tu da dove cavolo si è spucato non so se è veramente spaventato questo gioco da marzo uscite fuori mi spacco la faccia tutti strani uscite ecco dai uscite dai venite dai vai vai come sei oh oh calmate va ok va io già che mi sono spaventato abbastanza mi sono spaventato abbastanza penso occhio no 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 non abbiamo capito no 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 tanto sei solo da solo in un buco grande quanto non so che cosa ci vuole ci vuole solo abbracciare eh eh sì va bene scherziamo 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 stai facendo stai facendo notte oh te lo trovare su di sti caverni oh 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 mamma mia va bene va bene va bene va bene va bene va bene guarda appena non trovo una caverna spacco tutto che ne so trovare una caverna avrà 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 oh 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 eh oh andiamo di qua 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 e non c'è un ca e cosa dobbiamo fare e mi ricordo che c'era un sacco di di cose c'era un sacco di c'era un sacco di buchi di 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 tante cose che tipo vabbè 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 ok l cosa ho trovato cosa ho trovato cosa ho trovato non lo sapete sulla come vabbè no 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 no're io lo so che c'è una caverna qua vicino no 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 voglio una caverna voglio una caverna non interessa e poi non si vede niente con sta scelers signorina non è che volete da mangiare che non ti danno da mangiare e volete mangiare me ma perché va e porta però pure tu ti metti le urla i zombie e poi ti metti pure tu cos'è questa una bellissima caverna ma che bella la caverna ma ci sono i fantasmi in questa casa una cosa qua e una cosa tipo qua sto facendo così tipo ah no 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 aspetta calma facciamo aspetta prendiamo una crafty una spada sicuramente avete capito cosa voglio fare ma non vediamo adesso non voliamo ok ora sorvegliamo ecco qua no ma questa parte non si può si può scavare allora brutta idea brutta idea brutta idea ho avuto una bruttissima idea ho avuto un sacco di dolce perché non si vede ancora tramite no e ma qua attenzione non le dobbiamo mettere tante perché se no col cavolo che esco più un tipo d'acquaglio rag raggata dovete dopo raggare comisci di raggare prendiamo tutto sto ferro capiamo e potremmo andare giusto 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 perché non c'è nessuno giusto 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 perché non c'è nessuno qual solo giusto 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 ci� trusts guisci di raggiungere Štaca la torcia è qua l'ambutiamola l'ambutiva mastico ma che cazzo ma che Ma mori, 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 mori Ma che? Ma cacqua Ma qui stiamo scherzando Ma quanto è grossa? Ma qua devo subito mettere una torce Anzi, due torce Trovateva tutta Noi andiamo di qua per la mente Andiamo sempre più sotto a trovare del minerale Ovviamente se mi credo qualche minerale me lo dicevo Non posso vedere tutto E facciamo così Ma mori Ma mori Ma mori Bravo, eh? Lo sto ecocicciando la faccenda E sto ecocicciando la faccenda Poi qua ci manca un po' di spazio Per passare Lava Lava che ti lava Voglio Non voglio essere lavato Per favore Non lavarmi Non lavarmi Non voglio essere lavato Ma che è tutta sta lava che ti lava Basta Stavo arrivando qua No, no, no No, 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 no Non morire, non morire Non morire Non ci moro Moro, moro, moro Moro, moro Moro, moro Moro, moro Ok Per aprire tutti i cuori Ci rimettiamo in cammino E tra l'altro Una rossa E va bene La cosa che è una rossa Non è tanto bella Ma va bene La cosa figa è quando prendo in mano Proprio si illumina tutto Quindi posso tenere anche In mano La situazione La situation Io non c'è Dove voglio di scrivere Poi Solo scrivere E' bagata sta Sta Shaders Non, 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 non Morire, morire, morire Non c'è da L'abbè, non c'è da Oh, sono morto No Sono morto Regà, sono morto No No No, no, no No, no, no No, no No, no No, no lag su dono l'avevo detto che morivo l'avevo detto e tanto ormai non ci vado più perché tanto è tutto tutto è infuocato ormai devo vendervi tutto bellicitto mi interessa niente non c'è una moda dove quando tu muori ti lascia tutto questa volta faccio la cosa che quando muori ti restano tutte le cose in mano quanto quando si può usare credo non lo dà ok oggi può finire anche qua il video tengo la crafting qua faccio così ovviamente farò tutto da solo qua quindi se vi è piaciuto se la morte di Jenny vi piace non esiste un commento e scrivete e ci vediamo se non fate ah e ricordatevi di condividere il video con i vostri amici e ciao a tutti